Il ricercatore Walter Vioni, primo viticoltore biorganico al mondo ed esperto di tecnologie brevettate da diversi scienziati, eretici e ribelli, come Nikola Tesla, Pierluigi Ghina e William Reich, presenta le sue ricerche e i suoi esperimenti in campo energetico e quantistico in uno speciale in onda sabato 4 febbraio alle ore 21 su Telecolor.